Amici di Auto Occasioni, bentrovati oggi da Golden Garage, puntata speciale, puntata ricca, puntata dedicata alla primavera. Abbiamo selezionato per voi auto e moto, tutti gli ultimi arrivi da poter scoprire insieme e poter scoprire con tantissime offerte legate al ritiro dei vostri veicoli, legate al finanziamento anche totale per quanto riguarda i nostri mezzi e legate soprattutto alla possibilità di darci indietro il vostro usato con formule vantaggiosissime per quanto riguarda il noleggio a lungo termine. Partiamo con ordine, Golden Garage ritira il vostro usato, auto o moto che sia proponetecelo, se fosse di nostro interesse vi faremo sicuramente la valutazione migliore sul mercato e ve lo pagheremo nell'immediato. Non solo, Golden Garage permuta la vostra auto con la nostra moto e viceversa, lo facciamo anche qualora il vostro veicolo fosse di valore superiore e nell'eventualità abbiate più di un veicolo da dare indietro non c'è nessun problema. Golden Garage sull'acquisto di una nostra auto o di una nostra moto vi ritira anche due mezzi. Sicuramente, o perlomeno spero, avrete già sentito parlare di noi, qualora non ci conoscesse di presenza vi invitiamo numerosi anche solo per un caffè, merita venirci a trovare perché l'esposizione è ricca di mezzi particolari. Qui da Golden Garage, come da tradizione familiare, facciamo l'operazione 50% su tutti i veicoli a due ruote, quindi avrete l'opportunità di acquistare le nostre moto pagandole la metà e decidere tra due anni se tenerla, restituirla o sostituirla con enormi vantaggi. Tutto questo con la possibilità di riacquistare a distanza di due anni anche eventualmente un'auto. Abbiamo preparato proprio per voi, come dicevo in apertura, una scaletta degli ultimi arrivi e partiamo presentando una splendida GPA, si parla di una grande punto Abarth, unico proprietario anno 2008, una vettura rigorosamente originale, credo unica da reperire in queste condizioni. Sempre di Abarth abbiamo 3.500 in scaletta, una classica 135 cavalli, una competizione 2015 già con 180 cavalli, quindi restyling, con differenziale autobloccante e interno sabelt, e una fantastica turismo, si parla già di un'ultima versione anno 2017 con semplicemente 16.000 chilometri documentati. Si parla poi di BMW, un Serie 1 116 diesel, vettura dell'anno 2012 in allestimento sport. Si parla di Golf GTD anno 2015, super accessoriato, un prodotto davvero full optional con cambio automatico e sequenziale al volante, ancora casa tedesca per quanto riguarda quest'Audi A4 con soli 80.000 chilometri documentati, cambio automatico, manutenzione importante già eseguita, un anno di garanzia e un prezzo formidabile. Si parla di 14.900 euro. Si passa a qualche mezzo un po' più spazioso, parliamo di Cascai, un prodotto anche qua introvabile per il chilometraggio visto l'annata. Si parla di un 2009 con soli 50.000 chilometri documentati, unica proprietaria. Si parla poi di Gran Cherokee, quindi 3.000 motorizzato Mercedes, vettura già dotata di gancio traino, a una cifra molto interessante, al di sotto di 10.000 euro. Sempre dotato di gancio traino ed anche con il vericello, uno splendido Paiero anno 2011 con manutenzione appena eseguita. Si passa ad un SUV molto più particolare, un Audi SQ5, una vettura da 313 cavalli, motorizzato 3.000 turbodiesel, ovviamente 1.06 euro, quindi senza nessun tipo di limitazione sul traffico, e ovviamente interamente tagliandato in casa madre. Prezzo formidabile, abbiamo il prezzo più basso d'Italia, 32.900 euro per quest'auto pari al nuovo. Continuiamo in casa Audi, Audi A5 cabrio, 2.000 alla cilindrata, 177 cavalli, cambio manuale, vettura veramente ricchissima di accessori, da venire a scoprire in sede, perché con un prezzo reale, al di sotto dei 20.000 euro. Si sale di livello, gli ultimi ritieri hanno visto, una Cayman 2.7 in condizioni eccellenti, 46.000 km, una Dodge Viper, con soli 15.000 km, reali documentati, un'auto formidabile, una delle 5 in vendita in tutta Italia, una Mercedes SL, idonea soprattutto alla stagione, anno 91, 3.000 alla cilindrata, cambio automatico, una delle pochissime 2 più 2, quindi una a 4 posti a vostra disposizione, con 52.000 km documentati, si passa ad una Ferrari, una Ferrari 208 GTS, intercooler, vettura formidabile, da venire a scoprire in sede per le condizioni, e la carrellata termina su una Porsche 993, una vettura altrettanto introvabile per le condizioni, ma soprattutto per il chilometraggio, 31.000 km reali, certificati, documentati, dimostrabili, e anche qui si parla di una vettura permutabile, con le vostre auto, o con le vostre moto, o addirittura con entrambi. Tante sono le offerte che avremo ancora da presentarvi, ricordo di Arlen Davison, ne abbiamo di tutti i tipi, parlando di Sposter, diverse 883, abbiamo Road King, abbiamo Electra Glide, abbiamo due fantastici Fat Boy, un Bad Boy con forcelle Springer, un Crossbone, un'altra Springer, veramente motociclette introvabili, ma anche prodotti più classici, come MV Brutale 910S, MV 1090RR, Ducati Street Fighter, Guzzi V7, con soli 50 km originali, anno 2017, e abbiamo a vostra disposizione anche due T-Max, un 500 White Max Edition, e un 530 Special Edition, motorizzato turbo. Vetture e motociclette spettacolari qui da Golden Garage, siamo in strada Carignano 54, vi aspettiamo numerosi, per qualsiasi esigenza potete contattarci telefonicamente, al numero sovraimpressione, oppure via mail all'indirizzo, info-goldengarage.eu, per quanto riguarda il sito, potete trovare tutti i nostri veicoli, lo ricordo, sul sito goldengarage.eu, vi saluto, vi abbraccio tutti, e vi aspetto numerosi.